solo per schiacciare un po' poco da dire dopo le parole di chi mi ha preceduto effettivamente è un ringraziamento importante e doveroso un invito al quale ho voluto partecipare e rappresentare a tutta la comunità in quanto vediamo nello storico un elemento importante un elemento importante sì per la salute sì per il movimento, sì per l'attività agonistica ma anche un elemento di crescita sociale di crescita culturale di aggregazione, anche prima si è fatto riferimento a questo dicendo che saranno giornate importanti quanto sarà l'attività agonistica ma importanti anche per l'aggregazione e la socializzazione un momento in cui ci sarà un avvicinarsi di più persone pertanto sicuramente momento importante quindi ringrazio tutti quanti coloro che hanno partecipato alla realizzazione e alla preparazione di questa manifestazione e concludo facendo il mio in bocca al lupo il mio miglior augurio perché tutto quanto prosegua sicuramente per il meglio grazie ancora a tutti